amici sportivi a tutti voi un cordiale saluto ben ritrovati apriamo con il calcio e con la lucchese fanucchi e arrigoni la strana coppia della lucchese che però sta facendo volare i rossoneri potremmo definirla la strana coppia anche se calcisticamente parlando coppia non sono tommaso arrigoni jacopo fanucchi vanno invece di pari passo nello straripante rendimento condito da reti pesanti che sta trascinando la lucchese nella parte sinistra della classifica e con buone possibilità perché no di entrare nel playoff il cammino ancora lungo anzi lunghissimo ma con due tipi così nulla impossibile prendete il derby con la cararese che pure si era messo diciamo maluccio una doppietta dell'inesauribile mediano romagnolo rimesso a galla la navicella rossonera quando pareva sul punto di naufragare e poi una giocata di alta altissima scuola del fantasista lucchese doc ha illuminato la serata rendendo la sfida agli apuani quanto mai dolce e piacevole insomma due tipi così seppur in ruoli e con caratteristiche tanto diverse possono fare la differenza lo sa bene anche lopez che ha già rimesso sotto torchi i suoi venerdì sera ore 20 e 45 infatti tocca proprio la lucchese aprire la dodicesima giornata che chiamano le compagni alla difficile per non dire ostica trasferta di viterbo a rocchi farà caldo e padrone di casa reduci dal pareggio di arezzo vorranno rinsaldare casomai migliorare l'attuale quinto posto insomma si profila un interlocutore rognoso e da prendere con le molle probabile che lopez si affidi a grandi linee all'undici che abbiamo visto all'opera contro la cararese quindi si va verso la conferma del 352 con merlonghi a destra anche perché davanti non è il meglio e la coppia fanucchi deve in attacco ma avremo le idee più chiare solo dopo la rifinitura di giovedì e prima della partenza per il lazio a proposito di viterbese lucchese la gara del rocchi sarà diretta dal signor ivan robilotta di sala consiglina assistenti cristian zanardi di genova e massimiliano magri di imperia ancora per quanto riguarda la lucchese in un comunicato l'associazione sportiva lucchese libertas si dissocia ufficialmente da quanto riportato negli ultimi giorni su alcuni organi di stampa locali dove si evidenziava un presunto comportamento di protesta da parte dei supporters rossoneri durante le iniziative del prepartita di lucchese carrarese la società non avendo notato atteggiamenti e azioni diverse dalle consuete abitudini dei propri tifosi tiene pertanto a ribadire l'inesistenza assoluta del caso mediatico che si è creato e ringrazia ancora una volta i sostenitori rossoneri per la costanza e la forza del proprio supporto vi ricordo a proposito di calcio che mercoledì c'è un turno infrasettimanale in serie d si giocano le gare della decima giornata di andata cominciando dal givivorgo che sarà di scena dopo il pareggio con la massese sul campo dei liguri del finale ligure il seravezza sarà a sua volta impegnato in trasferta sul campo della lavagnese gara interna invece per il rafforte querceta che riceve tanto per cambiare un'altra ligure il sestri levante avversario non ligure invece per la capolista viareggio la squadra di carlo bresciani che sarà impegnata sul campo della dei fiorentini della rignanese possiamo tornare in studio e vedere anche le tabelle relative al campionato di serie di tanto per chiarire un po quella che è la situazione cominciando dalle partite in programma argentina scandicci vi ricordo si gioca alle 14 e 30 finale ligure givivorgo lavagnese seravezza massese al bissola ponsacco sanremo real forte querceta sestri levante rignanese viareggio savona sandonato tavarnelle valdinievo le monte catini di corna ridiamo lo sguardo anche alla classifica che vede al comando il viareggio con 20 punti seguito da lavagnese ponsacco seravezza e sanremo a 19 le altre formazioni della provincia givivorgo a 8 punti il real forte querceta 7 prima di proseguire vi ricordo anche che si giocherà anche nel campionato di eccellenza la nona di andata l'unica nostra rappresentante in questo caso il castelnuovo di eduardo micchi sarà di scena santa croce sull'arno sul campo della cuoio pelli seconda in classifica quindi un impegno severo per il giallo blu garfanini ancora calcio nicolas smailai classe 2002 fino al 2016 al tau dove ha giocato come difensore e adesso in viola con la fiorentina l'ex tau calcio è stato convocato da mister gemai musteda ganic allenatore dell'under 17 dell'albania per completare la rosa della nazionale impegnata nelle qualificazioni per il campionato europeo di categoria che si terrà a maggio in inghilterra quindi potremmo dire questo ragazzo ne sta facendo di strada il basket nuova importante prestazione per l'under 16 del chef a castelnuovo che ha vinto a massa 78 a 66 7 8 6 6 nella seconda giornata del campionato la squadra allenata da vincenzo buffa ha così bissato il successo dell'esordio in una gara molto più equilibrata di quello che racconta il punteggio finale siamo all'atletica andiamo a vedere nel servizio la tredicesima edizione della strada castelnuovo undicesimo memorial giuseppe bonaldi grande successo per la tredicesima edizione della strada castelnuovo undicesimo memorial giuseppe bonaldi organizzata dal gruppo podistico parco alpia puane con il patrocino del comune di castelnuovo garfagnana al via 167 atleti suddivisi in due prove quella riservata a donne veterani quattro giri del circuito cittadino quella della gara maschile per gli atleti sotto i 50 anni su sei giri nella gara d'apertura gli atleti a puane hanno cotto subito una vittoria grazie a giuseppe tomaselli che si è imposto tra i veterani belle prestazioni anche di francesco frediani e graziano poli in campo femminile successo di federica baldini del cus pisa che con una corsa graziata ed efficace si è imposta con autorità accumulando quasi un minuto di vantaggio sulla seconda classificata moira pacchetti vittoria per il colore di casa anche nella categoria delle donne senior con paola palazzini nella gara successiva la vittoria al maschile è andata al forte livornese alessio di storie dell'atletica livorno in 26 48 che oltre alle grandi qualità atletiche ha mostrato intelligenza tattica facendo le proprie mosse al momento giusto il secondo posto sul podio è stato conquistato da giacomo verona dell'atletica pietra santa il primo portacolori delle alpi apuane daniele rubino si è imposto nella classifica dei senior davanti al compagno di squadra lorenzo che cacci la stra castelnuovo era anche valida come penultima prova del criterium podistico toscano 2017 che avrà il suo epilogo domenica prossima a fornacette di pisa i motori stefano martinelli fresco campione italiano rally r1 ha chiuso la sua stagione ufficiale con un secondo titolo quello della coppa c sport r1 del campionato italiano terra il portacolori della gr motosport affiancato dall'esperto giuseppe bernardi ha conquistato il titolo rally della val d'orcia ultima prova del campionato delle strade bianche ancora per i motori db motosport ha chiuso la stagione della coppa italia gran turismo al terzo posto assoluto ovviamente con riccardo de bellis con la sua porsche 997 gt 3k preparata da zambon il driver lucchese campione uscente ha chiuso la stagione sul circuito di adria a rovigo con una prestazione sopra le righe confermando il suo grande valore dopo i titoli vinti nel 2013 e nel 2016 la moto viareggio ha colto uno strepitoso podio nella seconda tappa della serie 1 di ginnastica ritmica svoltasi a fabriano nelle marche la società via regina totalizzato 91 virgola 450 punti di altissimo profilo le performance di sarah rocca al corpo libero chiara vignolini alla fune francesca pellegrini al cerchio alle clavette egizia vergesi alla palla e casiarina al china al nastro ancora protagonisti siamo al karate ragazzi del maestro piccinini a campionati regionali di venturina terme un ottimo bottino di medaglie ben 14 di cui 4 d'oro ai campionati toscani campioni regionali sono si sono laureati luca dalle luce leonardo bertuccelli maria francesca binia e melissa bonino nel catà al secondo posto nelle varie categorie giacomo marazzi agnese fanti rebecca bozzi che vediamo in questa foto e michele menchini una domenica di soddisfazioni in previsione di un novembre impegnativo dove tutto il gruppo lucchese e ci auguriamo e auspichiamo sarà ancora protagonista ed è tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva del tg noi una breve pausa e poi il tg prosegue con la terza ed ultima parte